bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite un futuro che sta per cambiare perché tra pochi giorni arriverà finalmente la prima patch della season 4 del capitolo 2 mi riferisco ovviamente alla 14 punto 10 oggi parleremo ancora di acri anarchici ma vedremo anche le sfide della settimana che stanno per arrivare le modifiche alla mappa e tante tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare al primo argomento di oggi ed è una notizia davvero interessante gli open del dreamhack stanno per arrivare direttamente dalla pagina twitter ufficiale di dreamhack fortnite qui ci sono le date per il dhfn open quindi il dreamhack fortnite open in settembre per il nord america il 12 e 13 scusatemi per il nord america east il 17 e il 18 e per quanto ci riguarda i server europei il 19 e il 20 registration coming soon quindi non sono ancora aperte ma ragazzi tanta roba in bocca al lupo acqua sto dicendo in bocca al lupo tutti quelli che ci vogliono provare tanta tanta roba per il dreamhack di fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è una revisione di quanto si è detto ma in realtà che non è stato confermato tra l'altro ne abbiamo parlato proprio ieri nel video così come altri leakers in tutto il mondo dove si pensava ci potesse essere uno spiraglio per quanto riguarda le skin di black panther e di ant man in realtà ragazzi le immagini che sono state proposte questi giorni e che sono state trovate sebbene siano relative agli eroi marvel non c'entrano con fortnite quindi purtroppo ragazzi almeno per adesso ufficialmente non sono in progetto queste due skin quindi black panther come lo state vedendo adesso e ant man come vi avevo fatto vedere il che vuol dire che non è che non arriveranno ma per adesso non sappiamo nulla andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri è stato l'ultimo giorno dove potevamo ottenere dallo shop la skin il bundle di silver surfer è stata una cosa addirittura scritta da fortnite direttamente nella loro pagina di twitter ufficiale per salvare queste persone dal dominio di galactus grab the silver surfer set before it rotates out quindi prendere il set di silver io mi auguro che lo abbiate preso perché una skin davvero pulita non dico la bella di tutte però è davvero per essere una skin maschile molto lineare e molto pulita io il set l'ho avuto l'ho preso ho preso io il 7 mi è stata regalata la skin bello mi piace davvero tanto e potrebbe appunto adesso uscendo dallo shop arrivare qualcos'altro dedicato all'universo marvel anche perché oramai questa season è al 100% basata su questo e vi ricordo che per tutti quelli che sono ancora un pochettino scettici sul discorso che questa season l'abbiano voluta dedicare all'universo marvel donato mostarda il dona aveva pubblicato qualche giorno fa un piccolo post su twitter dove diceva tutte le season sono connesse ed effettivamente sebbene sia un po forzata a parer mio la connessione dalla season 3 alla season 4 comunque ci sta un sacco e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una bella notizia la patch 14.10 è stata aggiunta ai pre release staging server cosa vuol dire vuol dire che quando arriva nella fase di test la pace è in realtà già completata quindi è molto probabile che la vedremo settimana prossima tra l'altro arrivano anche delle immagini interessanti guardando nei file di gioco e se andiamo a vedere la seconda riga ci dice active until 2020 0909 il che vuol dire che potrebbe essere il 9 settembre la data di arrivo della pace 14.10 e questa pace 14.10 è veramente molto sentita da tutti quelli che fanno le news tutti quelli che portano i leaks perché potrebbe appunto portare nella mappa una differenza notevole la prima ragazzi come vi sto facendo vedere adesso è l'arrivo di galactus perché sappiamo che andrà nello stage 0 lo stage 0 ragazzi vuol dire quella proprio dove si pensa arriverà galactus si farà vedere o comunque avremo modo di capirci qualcosa in più intanto questa è un'immagine presa dal giorno 3 2 settembre quindi come vedete non ci sono state delle modifiche rispetto al primo settembre e rispetto al 31 agosto il che vuol dire che siamo fermi allo stage 1 se non ricordo male quindi staremo un attimino a vedere è un'altra grande modifica ragazzi si pensa sia la sostituzione di frenzy farms quindi di fattoria frenetica con acri anarchici come vedete ragazzi questa immagine si suggerisce un sacco di cose ovviamente mi riferisco al bagliore verde che è generato dai rift beacon di tony stark che molto probabilmente sono attivi perché tony sta cercando di fare un interconnessione tra il capitolo 2 e il capitolo 1 più dettagliatamente parlandone tony sta cercando di connettere i mondi paralleli questa sarebbe ovviamente la base di tutto e le speculazioni che vengono dette nei vari forum su reddit e dai vari leakers è proprio che avendo anche trovato dei riferimenti con rift beacon che dovrebbero arrivare nella patch 14.10 ad acri anarchici e non solo beh io sono abbastanza convinto che ci abbiano preso anche se ovviamente sono tutte cose da prendere con le pinze ragazzi però non vedo sinceramente una differenza da quello che stiamo dicendo perché comunque avrebbe assolutamente senso e voglio ricordarvi che sono proprio questi i rift che sono stati trovati che dice nella patch 14.00 4 rift sono state aggiunte potrebbero però essere solo per il testing ci dicono e se andiamo a leggere red junk rift anarchy acres acri anarchici blue junk rift bici bluff green junk rift camp code e yellow junk rift dirti docks che sarebbe magazzini muffiti quindi un altro chiaro riferimento al capitolo 1 secondo me potrebbe anche essere qualcosa di simile a quanto è successo nella season 10 che non sarebbe proprio così brutta come cosa ovvero sia rivedere durante tutta la season delle parti importanti in questo caso delle location importanti per quello che è stato il capitolo 1 insomma staremo a vedere e andiamo avanti a vedere una cosa anche molto interessante e molto bella perché vi ricordo che oramai sono già due giorni che è possibile attivare le rtx sulle schede rtx le nuove funzionalità grafiche se qua state attenzione fate attenzione all'immagine in mezzo c'è una linea nella parte di destra c'è l'rtx attivato nella parte di sinistra invece non lo è come vedete la differenza è davvero notevole bellissima la colorazione che viene data bellissimo anche l'effetto guardate in questa immagine come si nota benissimo che la parte finale del pick up è molto più dettagliata per quello che riguarda invece tutta la parte iniziale e chiudiamo con la lamborghini che anche qua è super super evidente e arriviamo all'ultimo argomento di oggi perché è un altro argomento davvero super interessante ovviamente mi sto riferendo a wolverine che arriverà ma ci vorrà ancora un po di giorni prima di poterlo utilizzare ma sono state trovate delle cose davvero super interessanti nei file di nei file di gioco si parla di una location dedicata a wolverine e non solo si parla che nella location di wolverine ci saranno dei nuovi scagnozzi se andiamo a vedere quello che vi sto facendo leggere wasabi ok è il nome dentro il file di gioco di wolverine e noi abbiamo tre stringhe di codice nambots unware wasabi nambots alerted wasabi e nambots treated wasabi quindi sono tre chiari riferimenti a dei a degli henchman quindi a scagnozzi dedicati a wolverine anche qua ragazzi staremo a vedere insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao